Sono Orbi e pensate che ho 60 anni, per me è molto faticoso venire qua anche perché sono di buona salute, ma sono puntata in vita perché c'è un problema che, ci sono tanti problemi che sono al di dentro poi di tutte le iniziative che ha preso l'area democratica di tutti questi movimenti che rappresentano oggi la manifestazione, ma ce n'è uno in particolare che vorrei approfittare di dire perché è invisibile, quello della magistratura dipendente, soprattutto per quanto riguarda tantissima gente che io conosco nel territorio di Catina, Tribunale di Catina, Popolo di Catina, con intervento della cultura, con denunce alla proposta di persona, nessun intervento c'è stato, c'è gente che non trova giustizia. Cosa voglio dire? Che non si tratta di magistratura di sinistra o di destra, si tratta di una magistratura che fa uso del suo potere per gestire i propri interessi, quali siano io non li so, però è vero che noi viviamo una realtà difficilissima anche in questo periodo.